Partita importante, classifica la mano, uno scontro diretto da non fallire, Cerignola sorpresa del girone per Colombo e anche l'ultima chance in caso di esonero, sarebbe pronto Zeman. Le scelte due allenatori, Pescara col 4-2-3-1, tre pali sommariva, il luogo dello squalificato Pizzari, in grosso preferito a Brosco, a centrocampo il tandem Mora-Jabwa, esterni Merola e delle Monache, tra le linee Raffiale, spalle di Vergani, Cerignola in serie utile da quattro gare, il tecnico Pazienza conferma e la 3-5-2, tre pali, Lander Trezza, classe 2002 al debutto in serie C, l'esperto bianco regista al posto dello squalificato Langella, in attacco il marocchino Ashik e Malcore, pubblico delle grandi occasioni al Monterisi di Cerignola, Cerignola che sta vivendo di fatto una favola, le due squadre sono separate da soli sei punti, dunque classifica la mano, un vero e proprio scontro diretto, l'errore. Palla persa in modo sanguinoso da Boben che sbaglia proprio l'impostazione, poi Ashik che viene messo a terra, c'è il contatto con sommariva, l'ammunizione per questa modifazione biancazzurro, il calcio di rigore soprattutto dopo l'appoggio di Malcore, Boben che è colpevole in questa situazione, errore da mattita blu, c'è Malcore sul dischetto, non calcia benissimo ma è bravo sommariva a sventare. Il tiro dagli 11 metri dall'attaccante con un passato del Chieti da gennaio a giugno 2014 in serie C2, classe 93, 10 gol in campionato, rivediamo da più angolazioni l'esecuzione non impeccabile però bravo sommariva. Classe 97 oggi sostituiva lo squalificato Plizzari, il Pescara prova a reagire, insomma un parolone perché il Pescara farà registrare davvero una partita sotto ritmo, non è neanche il termine giusto per rendere l'idea, una prestazione senza dubbio imbarazzante, ha toccato il fondo a Cerignola. Qui ci prova Vergani con la palla che sfiora il palo, ma in realtà stava per essere sorpreso Trezza, questo è l'unico tentativo fatto dai Biancazzurri nell'arco dei 90 minuti, Biancazzurri che non hanno mai tirato nello specchio della porta avversaria. Qui c'è un fallo, il fallo di Delemona che dopo l'errore di Boben in coabitazione anche con Mora sull'appoggio, insomma sbaglia Boben, in questo caso Mora, Delemona che in ritardo sul numero 29 Tascone batte a Schick tutto solo, Capomaggio sbaglia l'uscita sommariva. Il gol partita al minuto 23 nel corso della prima frazione di gioco, è vero, sbaglia sommariva, sbaglia il tempo dell'uscita, però guardate Capomaggio, difensore argentivo, l'argentino completamente ignorato dagli avversari, completamente libero, stacca di testa e va a segnare il suo secondo gol in questa stagione. Oggi ha compiuto Capomaggio, Italo-Argentino lo scorso anno al Fasano, 26 anni, eccolo qui, rivediamo il calcio di punizione di Schick, sbaglia l'uscita, sicuramente sommariva, ma è tutto solo, Capomaggio, guardate, colpo di testa facile facile, errore di sommariva, per carità, è evidente. 23esimo minuto, Capomaggio, 26 anni oggi, sblocca il punteggio, difensore che può giocare tranquillamente anche il centrocampo, buona tecnica, mezzi fisici soprattutto notevoli. Eccolo qui, inquadrato dalle telecamere di Leven, numero 5, Cerignola in vantaggio, Cerignola che continua ad attaccare, c'è questo cross, la respinta, poi il tentativo di Russo che gioca a sinistra con il suo dirimpettaio, o meglio, con il suo compagno di squadra a coccia a destra e ci prova anche Tascone, la palla poi termina in fallo di fondo, non ci sono deviazioni, dunque rimessa per i biancazzurri che provano poi a reagire con crescenza, entra in area, palla indietro e c'è questo tocco, secondo noi, il calcio di rigore, bianco su delle monache, ci sono le proteste vibrate da parte dei difensori, dei giocatori del Pescara, effettivamente il tocco di bianco, rivediamo, sembra evidente nel tentativo di anticipare delle monache, va a colpire proprio il piede da tergo dell'attaccante del 2005, oggi schierato titolare da Colombo, l'arbitro ha lasciato proseguire il signor Fiero della sezione di Pistoia, poi siamo in questo caso con le immagini del secondo tempo, il tecnico biancazzurro prova ad inserire subito Brosco, lo fa al primo minuto della ripresa, Brosco al posto di ingrosso e poi c'è anche la sostituzione di Cuppone, o meglio di Raffià, che viene rilevato da Cuppone 4-2-3-1, ci sono un po' di azioni pericolose in area di rigore pescarese, tra l'altro si lamenta Malcore per un fallo, probabilmente da rigore, vediamo un po', palla in mezzo, guardate qui che cosa succede con Malcore che va giù, anzi Senz Mazza per essere ancora più precisi, è entrato in corso d'opera, le proteste da parte della squadra pugliese, poi il tentativo di Mora che oggi ha giocato mediano centrale insieme con Giabua, sicuramente Mora ha fatto bene nel primo tempo, può giocare in quella posizione perché ha una intelligenza superiore alla media, poi ci prova Colai, è entrato in corso d'opera, sono state tante le sostituzioni operate dal tecnico Colombo che ripetiamo è passato al 4-2-3-1 all'inizio del secondo tempo con Merola alle spalle di Vergani e Cuppone largo, Cuppone che con il colpo di tacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Mora ci prova, c'è la parata a terra del numero 22-13, ripetiamo, il debutto in Serie C con la maglia del Cerignola, finisce qui la partita dopo 5 minuti di recupero, l'ennesima prestazione imbarazzante degli ultimi 3 mesi, il Pescara incappa nell'ottava sconfitta nelle ultime 15 partite, soltanto 13 punti negli ultimi 15 turni, capolinea Colombo probabilmente sì, la trasferta di Cerignola, vedremo quello che succederà nelle prossime ore, pronto Zeman a Cerignola, Cerignola batte Pescara 1-0.